Gran Galà di ginnastica aerobica a Spoleto, nonostante la pandemia, il Gran Galà è tornato. Saltato purtroppo quello del 2020, ma presente più vivo che mai quello del 2021. Una ripartenza straordinaria al Palarota di Spoleto, ci sono consumate due giornate di sport vero. Si sono confrontati gli allievi di dieci società, il livello tecnico è evidentemente in crescita, nonostante le difficoltà che tutti abbiamo avuto in questo anno particolare. Gli atleti inoltre hanno affrontato le loro prove che è un grande sportività. I bambini al di sotto degli otto anni, che secondo le direttive CONI non possono partecipare alle gare, si sono esibiti guadagnando tutti una medaglia d'oro e hanno dimostrato quanto uno sport possa spontaneamente piacere e far divertire. Poi via tutti gli altri degli allievi e i senior sono stati lì a contendersi uno scorcio di seminormalità davanti a un pubblico pari al 25% della capienza del palazzetto, secondo regole anti-covid pubblico che però si è fatto sentire moltiplicando per quattro tifo e applausi. Un grazie alla città di Spoleto, un ringraziamento al presidente dell'Oxerne della provincia di Rimini, un ringraziamento agli atleti gold federali e poi a tutti i giudici e a coloro i quali hanno partecipato, soprattutto a collaboratori e al professor Achille de Spirito. Grazie a tutti!